aia ma non così scusa mi puoi spingere da un'altra parte? faccio io andammi avanti? ma perché non sei giusto non mi metto spingere? no no io ho già fatto spingiti in qua, non mi stai a vedere a me, adesso la donna è cammina a sua senza piedi, si vede un disgraziato spingere tutto piegato grazie a tutti faccio io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.